5 morti negli ultimi 15 giorni, 20 dall'inizio del 2009, oltre 25 di media all'anno. Numeri da brivido che riguardano la strada statale 89 Garganica nel tratto Manfredonia a Macchia Mattinata, finita nell'occhio del ciclone dopo gli ultimi incidenti che hanno fatto allungare la scia di sangue sulle strade di Capitanata. Il tutto tra l'indifferenza degli amministratori locali, tranne che per l'ex consigliere comunale di Monte Sant'Angelo, Michele Notarangelo. Io credo che sia giunto il momento di dire basta a tutto quello che sta succedendo su questa strada. Questa è una strada di collegamento che portano tutti i turisti che arrivano sul Gargano all'uscita dell'autostrada verso il nostro Gargano. Dico questo perché è diventato quasi impossibile, e lo voglio rimarcare ancora una volta, quasi impossibile raggiungere di domenica mattina, di sabato pomeriggio, di sabato mattino, il mese di agosto, le spiagge del nostro Gargano. E anche perché quello che sta succedendo, che è una cosa stranissima, i morti su questa strada sono tanti e tali da far pensare che nessuno può stare zetto di fronte a questa realtà. La strada statale 89 realizzata negli anni 50 è priva di un'adeguata segnaletica e quella che c'è non viene rispettata, così come i limiti di velocità. In attesa di svincoli a raso e ruotatori interviene il prefetto di Foggia Antonio Nunziante che promette più controlli a partire già da questa stagione. Stiamo intervenendo perché oltretutto ci sono delle direttive un po' particolari che il Ministro dell'Interno ha indicato a tutti i prefetti. Il problema è che il territorio è vasto, ha molte criticità strutturali e quindi si fa quello che effettivamente si può. C'è un forte coordinamento, l'ultimo incidente più causato da una situazione particolare.